Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smith Terry ed eccoci qui per i soldi fraventi in modernatore, sentate il mister Terry e al suo Milan. Oggi dobbiamo affrontare in la finale di Champions il Borussia Dortmund e in seguito una materia di campionato, insomma non tanto difficile ma anche tanto facile come l'Atalanta che si trova a 7 posto, un po' fuori da tutto ma si va a decidere da affidare la torce e poi arriveremo di nuovo il Borussia Dortmund e la Lazio. Diciamo che Dortmund, l'Atalanta e l'Atalanta usano una settimana, sono dica, è difficile, proviamo a usare le riserve contro l'Atalanta e trovare contro il Dortmund che è la più importante, come te vuoi dire che ho già tutti tranquilli, tranne Sanchez che ha giocato e Donnarumma pure, mi sa che devo fare qualche cambio ma siamo pronti ad affrontare il Dortmund visto che ormai le scarifici stanno tutte lì, proviamoci ragazzi, andiamo, let's go, anzi no, prima facciamo la confusa stampa, mi stanno dimenticando ovviamente, andiamo a che vi danno ora, salve, io tedesco mi piace, mi piace, mi piace, da, so, 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 danky Duncan, sicuramente questo, non ci sono, eh, per entrare, per giocare bene a fare grandi giochi in grande Germania e sarei spero che il nostro Milan è molto forte, che abbiamo un tedesco pronto a guidarci, la squadra può giocare ovunque, anche in casa loro, noi siamo grandi squadra, grandi like, pronti a portare le grandi vittorie al nostro onore, le vittorie sono sempre attraenanti, eh vabbè, sempre sono anche Germania, chiede a fare le stesse domande, io vedete che siamo grandi capaci di fare grandi cose, non fare dei cazzari miei, ah, putain, non fare lo metto, magari avremo un'attoria della squadra d'esca, danky, danken, danken, gud, gud natkin, gut natkin, danken, un po', come dite, con perfetti, sarebbe un'osa epica, avremo poi l'ONU, la Nato, tutte le organizzazioni mondiali che ci ruderanno, però vabbè dai... andiamo a portare Sancho contro Pogba, un bel aspira. Allora non questo è che Abbiamo tutti i quadri di San Centra di Stanchi Caldara, Cozza Sanchez Pavard Ma metteremo Cozza Comunque metteremo Cozza che è il meno stanco da tutti Teniamo Caldara anche se è un po' stanco E soprattutto Donnarumma Non posso fare mai lui Metteremo anche Messo su richiesta Se questo Milner è Romina Saprà farci sognare O farci piangere Dakin E così qui all'assolidario stadio del Dortmund Che è uno dei più belli Con i corsi più caldi Se vuoi vedere la squadra del Dortmund Come se vuoi vedere Andi mi si alleno Tutti insieme Messi nel stesso tempo ovviamente Con Canoess Vediamo un po' cosa ci aspetteremo da questo Dortmund La coreografia è un po' scialba direi C'è solo la bandiera di questo Dortmund Bello tutto Giallo e nello tutto Complimenti Vedo Bruce fanno delle coreografie migliori Al Verschweire stadio del Dortmund Fanno delle coreografie molto migliori di queste Se finali Cavolo C'è Holmes Ho visto Dortmund tra di son veri In 1909 Beh abbiamo Dario è battuto Baccia 2-0 Quindi abbiamo stato in finale Il Piemonte calcio E sarà brutto Perché nella squadra Con noi Abbiamo stato sofferto Abbiamo vinto anche la sofferta Vediamo un po' Con il Dortmund come si scheda Ho già visto un Sancho La che schuzza Non sembra lui Un bambino Molte cose non ne conosco Lui Sembra conoscente Brossone Mamma mia Quella è Figo Che c'era Non ne conosco Quest'un di quest'incredibile Allora Noobs Che è un Vengiatore Che abbiamo fatto Brossadotto Lindo Che sale Ok Mi ha sbagliato La formazione Ho fatto una cavolata No Ho sbagliato Ok Ok Com'è una squadra A primo piano 1-2-3-1 Quello come noi Fernandez Ah Hanno Dolberg Il mio vecchio Dolberg Vuschezza Addirittura Ecco Ecco Che è un conoscente Lemar Una bella squadreta C'è il Borussia Angelino Ecco Che io volevo La Lax Angelina Per Sv Se mi ricordo male Paul Tenilo 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 a Dolberg Tenilo a Dolberg Non fagli farlo Bravo Cozza Nostra Ah Corner Ok Hanno Dolberg Lemar Buschezza Bella squadreta Bravo Messi No così però Che stop è di Messi L'ex tedesco Dalla Werner Che è più veloce Buschezza Timo Werner Proprio lui Oh la botta E la parte del portiere Avrà già prima Pericosità Info del gioco Grande ragazzo In contropiere Vai Timo No Ah cacciano qui di nuovo Chi viene da me Viene Messi E viene messo ovviamente Messi Proprio il numero Messi La botta Mi ha buttato a terra Oh oh L'avevo fatto il fallo Ma hai detto Ma è Bellino Vai Leon Ma è qualcuno Che toglie il pallone A questi Dai dai Bravissimo Caldara Matteuccio mio Guarda Belli Tra le linee Belli C'è che amo Timo Grandissimo Timo Timo Per Belli Che l'incrocia Non è fuori gioco Ed è 1 a 0 Milan ragazzi Franca 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 Leon 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 E tanto lo facevo Sì Bella Stop ripeto Perfetto Proprio lui ha fatto La giocata da inizio Poi vado a vedere Poi vado a lui E 1 a 0 Perfetto Giroda questo Un gol fuori casa Che è sempre Importante In questa competizione In questa competizione Qua serie E fa anche Più a gol Fa anche bene A volte Però che quelli Non si arrabbino Che sempre Libro Belli Meravigliosamente Leon Perere è veloce Ma Belli è più furbo Il numero di Belli Secondo pace No Dammi al Timo C'è la Timo lì Perché mi rimane su Vai Pogba Vai Paul Oh Non doveva fregare Pogba E vabbè Si è fatto fregare Invece C'è spazio Per il Dortmund Lateralmente Oh Su Dolberg Grande Alvara Eh zizio Però che cavolo Dolberg Non si può fermare Sei fortunato Perfetto Buttala via Uh Affanculo Ben 10 Uh Che brividi Sto finendo tempo Chissà quando è dotta Il recupero Però va Visto che qui Sono andati in porta Ok Allora combattute Siamo su Gli usimi Come tiri Presto palla Ovviamente loro Ci stanno Distruggendo Presto palla Però Coz è morto Coz è Sissi Coz Adesso Donny Vandeback Poi provi a mettere Lui Ma purtroppo Donny non c'è Delenny Tinolemar 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 Aia E vabbè E vabbè Che devo dire Quello che Che è stato da solo C'è troppo Ma spiegare Pogba Com'è che è da solo Pogba lo lascia Rischio marca Nessuno I centrali Non c'erano 1-1 Ok Allora C'è un altro cambio Sono tutti morti Coz è morto Che cavolo Che cavolo ci metto Lì Cardoso Pogba Perdoni Pogba Ma sei l'unico Che possa Tremmi lì Non sciupo Non spreco Però Federico E Osimena Osimena O Della Vegito Ma metto Della Vegito Sinistra Invece Quindi Chiesa Buonaventura E poi Ho messo lì Che è una Blaspemia Ma non ci vengono Non c'è Dove mettere Sanchez Sbagliato Sanchez Uno Fernandez Non mi piace Fagli farlo Fagli farlo Come viene Come viene Come viene Bravo Buon Buttala via Così Un po' di fortuna Chiesa Timo Vai Timo No Non puoi Toccarmi Al più di una Volta E C'è Niente Butta Arrivaccia Pallone Inutile Però Mi sono tutti Morti Devo bastogli Il pressing Bella così Ragazzi Giro palla Bellissimi Mi piace Perché è così Largo Qua c'è Il mano Ma c'è Il mano Ma anche gli dai Il mano Va Un po' di mano Fagli farlo Fagli farlo Fagli farlo Butto la terra E abitro E cavolo Vabbè Uno a uno Un po' sofferto Perché Molti stanchi Ti stancho Ho messo anche Poco Come ho detto Di esa centrale L'ho messo Vabbè Devo dire Però Un bel Un buon risultato Dalla fine Mi sto constatando Un po' le cose Quando ho fatto Un gol E' veramente Trovato Che è lì Tiro Cioè guardate Qui Cioè quello E' là sotto Però non lo segue Corso Non lo segue Tiro Il sinistro Che è messo a piede E' una Roma che Faccio uscire Sbagliato Faccio uscire Vabbè Comunque Uno a uno Buon risultato Andiamo All'intervista Non possiamo Aventarci Di circolamento Fosse 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 più il Dortmund Che ha dominato Come so Palla C'hanno Dovinati Dove avere una scuola Informista Metto in tipo Tutti i miei dolari Maffanculo Il campionato Dispiazze Ma è la Champions Sulla Champions Mi è Non è Sì E' Sulla Ma Hai Giuscito a giocare Non giocare Non Dica Nient'altro Tu Cosa Voleh Tu Ma Tu Messe Di Giornalista Prostituto Terzo Musica Non Vuoi Tornare il secondo tempo, che aveva ancora una vittoria certo, il nostro attivo certo, lui mi permette solo a vincere cosa dire tu che non poteva vincere? non mi permette di perdere? lui non può dire, io che cavolata che ho fatto comunque un bello, mi permette 1 a 1 oh oh, finalmente mi permette di perdere, Donny Vandek Pogba Vandek Pogba per ritorno, ragazzi si giocherà, allora, fai queste interviste importante, poi punteremo in grado avremo finalmente Donny, a maggio vorrei essere in 35, me ne siamo inutati eh, come giocheremo? non mi dobbiamo divertire e anche divertire i nostri tifosi non mi dobbiamo solo fare il risultato, basta la prima volta che ho seguito per me, in verità, ebbè conoscevo i loro punti deboli però non mi sarebbe perché sono anche le loro forze, siamo attenti come si parla di, siamo pronti, siamo pronti della sfida con le tre panni di riserva, certo vabbè, scusate sono domande del cavolo, Vandek vuole Pavard, si giocherai, Pavard giocherai tu e mi tengo ci penserò e lascerò tutti con gli importanti fuori siamo tutti stanchi, i tolari infatti stanchi, ovviamente che è ancora stancho andiamo fuori dalla squadra pronti a affrontare la squadra bergamasca noi siamo quarti la Roma ha 5 punti, in teoria è lontana manca ho 4 partite anzi viene un po' come si delinea un po' il campionato ci si fa anche in Napoli ora 78 allora c'è Samp-Napoli cavolo, Samp era con noi lotta per il posto in Europa dopo giocare bene poi vengono a Roma vengono a Roma vengono a Roma e entra Sassuolo il Sassuolo che è sapo poi a maggio avremo tanta Piemonte Milan Lazio Roma Raggiore entra Fiorentino vabbè andiamo a fare nostra squadra ok squadra fatta anche se la fatica non ho mai avuto tanta fatica a tenere una squadra cioè ancora tornare stanco la volta ancora è stanco un'altra mattina di tempo ancora sono stanchi vabbè ho messo Valeri anche alto Rizzo, Arpa e Cavani insomma una squadra non è il massimo che potevamo fare ma comunque siamo puntati a vincere non c'è altro da fare tornare sempre capitano no io mi metto il capitano metto Cavani anzi per rispetto ho messo a buon momento il capitano che cavolo sto tornare che arrivo a essere capitano che cavolo è ogni volta lui non è arrivato giovanissimo buh affronta la talanda ok sono qui sono Zanziro un altro momento ho fatto l'Atalanta questo dovrebbe essere Ottibor oggi in un sito mi ricordo l'entra 3 ma comunque una squadra nostra un po' rimaneggiata dai cambi di nome necessari Bambassa che ci saluta che bello Bambassa avere un Bambassa qui con il Milan un sogno bene si siamo pronti anche noi pronti a affrontare Cardosigno il pequeño che ritorna in porta vedo già un muro e leonora ho l'anno di sempre di cose aia qualcuno penso che il cuor loro stiano pensando a un titolo e che cavolo se ne vedo anche il fallo dai e qua c'è il gol aio ma ha vinto la tira Maria Bardi Bardi la Bambassa c'è il gol certo che poi non so perché la punizione c'è il vantaggio eh vabbè ragazzi si batte in salita ma quello che cos'è e vabbè ma cos'è questa cosa che deve essere è lì ho dovuto segnare se hai capito cioè guarda qui se deve essere lì si salta e quello davanti ma che cavolo è ma cos'è questa cosa che va a colpire dovrebbe essere la palla e non so che dire vabbè prendiamo questa ragazzi voglio di andiamo a perderla bravo Rizzo eh sì Tonas vai col 2 a 1 vai veramente veramente vergognoso bravo Rizzo Rizzo mi ha giocato come come impostare però non posso mai dire una vecchietta un po' basso e solo se per il trequartista che che non è quello che vorrei dire un trequartista ti vorrei più velocità mi sa che devo magari allenare guarda non riesco neanche ad entrare in scivolata bene sì è gol questo è questo è gol ti hai visto come le difensate si sono allargate ancora una volta mi sono allargate guarda cioè come è capo possibile cozza guarda che fuori cozza che non c'è no c'è una pista inesistente 3 a 1 per loro vado lo sensi vado lo Rizzo deve fare tutto lui deve fare mamma non riesco a fargli il fallo per perdere rabbia e vabbè io tolgo il po' con l'angoccia da lui sì 1-2 perfetto che scompare Bindel 4 vabbè raga eeeh niente il campionato ormai quanto deve risultare per il posto per il posto in Europa League io tolgo solo qua in posto in Champions va che sono quarta di scherzo qui non è che Napoli vince ovviamente Napoli 1-1 la Roma vince pure la Fentina vince la Lazio ok punta calcio vince e cosa devo dire a questo mio mio campionato ok veramente iniziamo benissimo e poi cavoli perché infortuni di Wanderbeck non ci voleva dito che non recupero più certe situazioni davvero orribilanti di poco ribilanti perché veramente ma si il Parma ottengono San Pedro le partite che hanno rovinato tutto il campionato c'è il Parma che mi però difesa che diventa difesa io quello ripeto 3-0 e poi ritorno sembra che gioco mi ha convinto con il riservo giocato ma c'è Vindele ma che cavolo mi marchi lì ma che cavolo mi marchi ok diventa un po' messa a male ma Vindele dove è questa posta guarda è qui capisci che quello è il libro ma lui non ora corre ma che cavolo deve marcare l'estremo ma che mi interno dai porca miseria e lo farei cambi devo un po' usare metto un po' Donnie ma anzi stiamo aspettiamo un poco che stiamo al cinquantesimo non ti ho mai perso la partita 5-1 contro l'Atalanta 5-3 ma i nostri si balazzanti certo davis fu il gioco di harp ottima visione di gioco qui ah no può colpire da lì cioè certo certo io la piazza è quella di aria centrale io metto l'aggo per il piazzaglia e lui la codice centrale ovviamente ovviamente non c'è nessuno a sinistro non c'è nessuno a sinistro non c'è nessuno a sinistro tutti sul primo palo sono io non ho fatto primo palo di serie sì e vabbè e vabbè vai Donnie che c'è nessuno a sinistro dopo quanto tempo e dai harp dai harp ma dai harp ti dicesse Donnie e torna col Donnie torna prima a tirare buona di fortuna e subito il gol è il gol di testa è il gol di testa non mi aspettavo almeno un po' di orgoglio dai non facciamo un 5-1 banano almeno un 5-3 proviamo dai accorciare e allora che lo vanno gioco dove vanno tiki-taka vai Erinson vai Erinson combatti Erinson rigore e questo è rigore questo è rigore dai ma cosa non è il rigore non è il rigore guarda qui dove c'è gli arriva la gamba e me la ruba pure vabbè non mi dà il rigore però quello entra così come vabbè oh non c'ho più no oh bavard oh bavard oh bavard figlio mio non è fuori gioco si meno non è fuori gioco si meno vai Matador eh vabbè posizione invitante la parola tu no ma si ha copito Donnie non ti dirmi che ho copito non ti dirmi che ha copito Donnie mi sono giocato l'ho copito che la balla è in rete vai Donnie vai Donnie che non ti sposta nessuno che Donnie non mi ha andato a tempo e vuole già mordere Donnie è caldo per sdorto Donnie mi sono detto che è morto e ancora continua a giocare lasciamosi meno ma è che mi dà i tonali ancora mi danno tonali e vabbè quello ci passo attraverso ci passa ci intervento ci passa attraverso gli fai il fallo non so si è fatto male a bavard buono allora prima ha fatto tutto quello e ha segnato bavard si vuole il fortunato ok grazie un 5-2 davvero vergognoso ok io ho detto di serve non credo bene ok match 3 goal veramente è quello che mi lascia questo è goal guardate questo è il primo che ci hanno fatto loro con Davis che mi marca quello portaglio tanto a lui e lui ancora sta lì a guardarlo sta lì ancora a guardarlo vabbè poi i sensi in cui questo c'è una pistola che marca il vuoto si ferma lì si ferma lì non pressa io con la difesa centrale sbaglio e poi questo il muro c'è qui perfetto guardate c'è non due meravigliosa a fiume tempo e qua Bindelli che non manca nessuno c'è questo Libra quando trovo un buon con le che dovevi pensare che io riprendevo mi è stato spostato tutto insieme vabbè e questo è il grande gioco di FIFA che è un grandissimo gioco è un gioco straordinario da tutti i punti di vista la super reggia Napoli vince la Roma vince la vedo durissima anche per il quarto posto del mio e non per vedermi il mio va si ok e vabbè è che ho tutto io si ok grazie io ci ritorno con la squadra si grazie che noi iniziamo con 5 a 2 a 0 a 1 non so il nostro morale è alto si è una squadra di tosto l'Atalanta è una squadra fortissima che è lotta per la Champions insomma comunque vediamo un po' andiamo a mettere il nostro allenare togliamo questo Roscia che c'è molto che i tolari c'è Braga ad esempio anche Aguir chiesa che può ancora creare io metto lei chiesa 1 contro 1 contro il bidone teni in passo che aumenta velocità ancora mettiamo che non ha 2 roccia aumenta velocità rendiamo ancora più rendiamo ancora più veloce e anche più esistente ok brava grazie al cavolo vediamo un po' il campionato com'è se è possibile allora serie A team noi siamo ancora lì l'arropa ci sta a 2 punti prossimo Milan Lazio e Roma Cagliari io me ne vado non ne vado più in Napoli anche se dovrei veniamo un po' in Napoli per curiosità allora non c'è il Napoli Napoli Geno che poi c'è Roma Bologna Napoli Brescia Napoli e Spalmilan e per ultimo ci avremo Mila Fiorentina Stamper Roma e Napoli Inter cioè il tesorso ancora è fattibile ancora diciamo è aperto tutto però con c'è questo un altro gioco si sa che non non è così per sapere a te non è così non sarà mai così perché tutto va con dico loro Lugano 27 27 2 61 adesso viene meglio Vanderberg mamma mia non venderei così quasi anche se metto 95 per lo alto ha un buon potenziale andiamo a potenziale chi è più calato questo ancora va questo ancora va questo va e questo ancora un potenziale di sono potenziale vada fine ok andiamo avanti ne un po' considera ridotta la nostra squadra intanto i tolali sono messo tutti i freschi come sono donne si grazie per l'olanda allora e allora io farei il cambio che tutti noi ci aspettano adesso che è ancora stanco bene è ancora stanco mi sei ancora stanco ma che cosa succede lo metterei il cambio che tutti aspettavamo donni eh puoi lui impostare vabbè mettiamoci qui tonali vada via chat anzi tonali lo terrei e togliere i paleri estenersi non voglio cambiarle alla fine mi posso bastare metto poco alto ma metto poco alto adesso e questo è la squadra l'are anche se forse metteremo chiesa che mi sa questo 5 a 1 questo 1 a 1 non è per niente buono non è per niente buono comunque ragazzi con questo è il prossimo episodio invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto commentare la vostra cosa sarebbe fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se vi c'è notifiche mi riusciranno e vi ricordo anche di seguirmi su twitch da fare live e su vari social come twitter instagram facebook così sapete più sul lavoro detto questo ragazzi al prossimo episodio dal prossimo e terri passo e chiudo